Parliamo di calcio del Marsala, nonostante lo stop imposto dalla pandemia, i problemi non mancano in Casa Azzurra, sono sei i punti di penalizzazione complessivamente per la società lilibetana da recuperare velocemente in classifica, i tre punti fino ad oggi per vertenze economiche relative a due stagioni addietro riguardanti i giocatori Giuffrida e Bonfiglio, oltre alle dichiarazioni dell'ex presidente Cottone che sono costate un altro punto, ne arrivano tre punti ancora di penalizzazione, sono attesi per i prossimi giorni e riguardano i casi relativi a Maraucci, Tripoli e Mazzara, un handicap non indifferente che il Marsala dovrà cercare di colmare sullo campo se non vuole incorrere ad un'altra retrocessione, ma c'è nonostante tutto fiducia nel clan azzurro, nelle potenzialità della squadra di Tortora per uscire fuori da questa situazione veramente complicata.